Dopo 13 giorni dall'ultimo contagio nel Cilento ha per di fumo registrato un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una giovane donna che è asintomatica ed in buone condizioni. I suoi contatti nel periodo d'emergenza però sono limitati al solo nucleo familiare che è stato posto in isolamento e che verrà tutto sottoposto al tampone dall'asla. È il primo caso per il paese cilentano di per di fumo. Da altre zone del Cilento però arrivano buone notizie riguardo le guarigioni dal covid-19 dalla comunità di Montecorice e Vibonati. Il farmacista di Montecorice operante a Battipaglia dove ha contratto il contagio è risultato negativo al secondo tampone. Ora per prassi ne verrà disposto un terzo per dare ulteriore conferma alla guarigione dell'uomo. Anche a Vibonati il medico primo paziente del paese del golfo di Policastro è risultato negativo al secondo tampone. Si attende l'esito del secondo tampone anche per la moglie che è il secondo e ultimo caso di Vibonati. Il bilancio per il Cilento ora è di 15 casi ad Agropoli a cui si aggiungono 11 guariti e 3 decessi. 3 a Vallo della Lucania e Casalvelino, 1 a Perdifumo, Vibonati, 6 a Cilento, 1 a Laurino e San Mauro Labruca. Nel Vallo di Diano nessun nuovo caso. Il totale del territorio si conferma a 153 casi e 16 decessi.